Alla fine, secondo me, non stiamo molto a pensare a questo lavoro. Come tutti gli anni, almeno in questi ultimi anni, la Juventus parte per vincere, come al solito, il campionato e per imporsi tutte le competizioni. Sappiamo che siamo una squadra da battere, ma allo stesso tempo sappiamo che non c'è niente di scontato. Siamo concentrati su questo campionato e su questo stato di scontato.